Offrendo alla devota attenzione dei fedeli, l'immagine dei santi, la chiesa madre e due pobres sotto i nostri occhi, le figlie di coloro che guidati dallo Spirito Santo hanno seguito Gesù in vita e in morte. Una cerimonia semplice ma intensa, quella che ha visto nella chiesa di Sant'Anna in San Lorenzo nel quartiere di Canalone a Salerno, l'esposizione dopo il restauro della statua di San Francesco d'Assisi. Quella del Santo d'Assisi, con mani, volto e piedi in legno e corpo in carta pesta, fu trovata insieme ad altre due statue anch'esse della stessa foggia, di San Gioacchino e del cuore di Gesù, abbandonate in uno scantinato dell'archivio comunale alle spalle della chiesa. Su sollecitazione di uno dei soci dei Lions Club Salerno Ippocratica Civitas, si è deciso di restaurare la scultura di San Francesco, che dopo quattro mesi è stata consegnata al parroco di Sant'Anna in San Lorenzo, Don Luigi Aversa. Gremita la storica chiesetta nel quartiere di Canalone per la cerimonia, in cui si è ricordata la figura del Santo d'Assisi. Prossimo obiettivo ora è il restauro delle altre due statue del Sacro Cuore di Gesù e San Gioacchino, un recupero quest'ultimo molto costoso, ma che non fa arretrare i Lions che sono già al lavoro per reperire i fondi necessari a restituire a culto le sculture in legno. Già organizzata anche una raccolta fondi che contribuirà a reperire i soldi necessari all'operazione e che restituirà alla chiesa le altre due sculture, restituite al culto ma anche al patrimonio storico-culturale della città di Salerno, che potrà contare su altre tre stupende opere d'arte di pregevole fattura, datata tra il XVII e XVIII secolo, probabilmente attribuibili a Nicola Fumo. Non c'è certezza, purtroppo. Nicola Fumo, caposcuola della scultura barocca nel territorio cilentano, un grande artista che a cavallo tra il 1600 e il 1700 fu antagonista del partenopeo Giacomo Colombo, vero e proprio caposcuola di quest'arte raffinata in Italia.